Sì, dispiace per la gente che ha corsa numerosa per come è andata la partita, però dirvi di nuovo della prestazione, di quello che abbiamo fatto, perdi una gara così, però l'hai persa e quando perdi devi stare zitto, però cosa posso dirvi? Sì, analizzando la gara, i ragazzi ce l'hanno messa tutto come al solito, primo tempo equilibrato, si è addirittura un paio di situazioni noi, la prima a fondo nel secondo tempo gol e noi invece due o tre situazioni, direi quella di Graziano clamoroso col portiere a terra, foggia tu per tu col portiere, però se non fai gol è inutile parlare di racciuffarlo o di vincere una gara, dispiace che su due situazioni, l'ultima lasciamo la stare, in ripartenza ormai è finita la gara, Però questo è un dato di fatto Altro dato di fatto però è che le azioni che ha fatto il Teramo, le occasioni, non sembrano come al solito sempre molto estemporane, ma è veramente una vera e propria costruzione? Faremoci chiaro che se non è un lavoro No, a me sembra eccessivo quello che stai dicendo perché i giocatori, insomma arriviamo là come poche squadre davanti, purtroppo non fai gol, è un dato di fatto, ma questo è un dato di fatto abbastanza evidente, non fai gol, crei, se non è che crei non crei Mi viene in mente quella di l'azione bellissima di Tulli, si va a terra in rigore, è voluto stare in piedi, ha scartato 3 o 4, ha fatto l'1 o 2, c'è stata quella, l'altra situazione che lì si è liberato foggia tu per tu col portiere Quella di Graziano sicuramente è stata un po' un qualcosa, un po' così, da buttare la palla in mezzo, però è stata un'occasione, ma la Samedetese che occasione ha avuti? Cioè di una squadra che deve vincere il campionato, eh? Gioca fuori casa, non gioca fuori casa, una squadra che deve vincere il campionato, ha fatto un'occasione, ha fatto gol, c'è stata l'altra di Bove all'ultimo, ma è una partita che se uno la vede, analizziamo bene la partita, poi non l'hai vinta, ma hai perso una partita dove come fai a meritarla di perdere? Solo questo, però l'hai persa, ma è che ci manca qualcosa davanti, lo sappiamo all'inizio di stagione, ma è quindi i pareggini, teniamoci li stretti, ci dobbiamo salvare veramente all'ultima giornata, siamo a 6 punti dalla zona play out, 6 punti Ma a me dispiace per la gente, è tutto, a parte che molti hanno apprezzato i tifosi, altri no, hanno fischiato, ma ci mancherebbe, ci sta, ma questo non ci va a nascondere che abbiamo battuto il Padova e allora chissà che cosa Questo è il nostro campionato, dobbiamo dare tutto, dobbiamo cercare di concretizzare al meglio, perché crei molto, ma non è che pensavamo prima che eravamo fenomeni, ora scarsi o viceversa, questo è il nostro campionato Ma guarda, questa è una cosa anche quella, è evidente, quindi si vedrà quello che capiterà, adesso abbiamo ancora queste partite prima di gennaio Però crei così tanto, il nostro golador fa tre gol, che è il centrocampista, insomma è un dato di fatto, è vero che dopo mi dite, ci sta, ma devono arrivare lì le palle gol Ma ne arrivano palle gol, ma arenate di nuovo, ma tutte le partite, col Gubbiamo abbiamo perso con due neanche mezzi tiri, abbiamo perso, oggi di nuovo abbiamo perso con due mezzi tiri O sbaglio, ho visto un'altra partita, non lo so, poi hai perso e devi stare zitto, ma sono state queste, contro una squadra che ha dei valori in assoluto superiore alla nostra Ma diciamo che c'è sempre la sensazione, quando arrivi la palla in lingua e praticamente il pomore, nessuno crede Quello è un dato di fatto, però è creato di nuovo tre quattro palle gol, di cui due abbastanza evidenti Il suo stato d'animo ora è preoccupato, Asca? No, ma non sono preoccupato, io so benissimo che squadra avevo, che squadra ho, sono dei ragazzi che lottano, danno tutto Però abbiamo dei limiti, ma questo è normale, è un dato di fatto e andiamo avanti così, ci mancherebbe Dispiace perdere il derby così, perdere un derby che poi il 2-0 è diventata veramente una cosa abbastanza eclatante, brutta Perché già perdere era così in più il 2-0, mi dispiace, mi dispiace per la gente, per i tifosi, per i nostri giocatori L'avevamo preparata bene, stavamo bene, ci credevamo, purtroppo è stato un primo tempo abbastanza per entrambi Giocata a metà campo, anzi c'è stato un paio di situazioni, colpo di testi barbuti, un paio di tiri nostri Secondo tempo pronti via, c'è stata questa occasione, una mischia anche loro, è stata una mischia Hai avuto le occasioni per pareggiare o non hai pareggiato e poi in contropiede al 95-16 hai perso 2-0 Cioè andando la beffa, non hai le tue scoluzioni? Oltretutto quello, oltretutto ci aggiungiamo anche questo, oltretutto ci aggiungiamo questo Quindi una partita, insomma, che non so, è vero, l'hai perso 2-0 addirittura Più il portiere è che ha i di fuori e questo ci dispiace, però ritorno a dire Il nostro campionato è quello che doveva essere, senza che sono cambiati delle situazioni Noi siamo a 6 punti dai play-out, ma magari, ci mettevo la firma quando era È logico che questa squadra gioca a Crea, ti dispiace perché poteva avere dei punti in più Penso di sì, penso di sì Penso adesso non so le altre, ma ad oggi sì C'è la parte dell'attesa e comunque la quinta vittoria che non riguarda Non è vero che sia un caso, la sto regadendo di più Sicuramente, no, 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 ma io analizzo la partita, la gara E dice che la San Benedettese è venuta a fare la sua partita in attesa per ripartire E quindi il primo tempo non ha creato nulla Il secondo tempo, quell'occasione, perché c'è stata un'altra di Bove che è uscita di poco Ma è questa la gara, è questa la gara Un pareggio, era il risultato minimo giusto Purtroppo le perse 2-0, è buone, pensiamo già Ma noi abbiamo sbagliato molto a metà campo A metà campo abbiamo sbagliato molto Noi il primo tempo le avevamo preparate così, con delle ripartenze Abbiamo avuto 3-4 ripartenze abbastanza evidenti Però purtroppo Ripartenze vente, perché più di una volta recuperati Cioè, le ripartenze devono essere veloci Io mi permetto di dire che le sue ripartenze Una volta, per due volte, ha difeso l'intera difesa Della San Benedettese Sì, sì, no, no, ma Capisco che non c'è Mauri Cagli Però capisco anche che una ripartenza Se abbiamo dei giocatori lenti No, ma i giocatori lenti o non lenti Noi abbiamo rubato palla 3-4 volte E poi siamo arrivati lì E purtroppo la giocata La scelta, che dico sempre, della giocata Quella che fa la differenza E purtroppo non siamo riusciti La sembra come la vede Ti chiedo una risposta lattica come al solito E perdono la semplicità della domanda Ma per un po' successo di mobilità Non l'ho letta come si deve Non hai pensato magari di offendere un po' di più Un quarto d'ora prima? Guarda, c'era un momento in cui Proprio chi stava in campo abbiamo creato Con Barbuti, con Tulli Un po' così Quindi stavamo pressando Le situazioni sono venute fuori Anche delle buone... Sì, sì, anche in quel coso Era giusto dare un po' di vivacità E comunque, insomma, Reba e Cedernaci Sono entrati bene Hanno creato Eravamo lì Eravamo lì Ad un momento all'altro Il gol per quello che è fatto Era nell'area Non è arrivato E purtroppo dispiace Dispiace di una partita Analizzando proprio la partita di per sé Questa Poi è normale La perdi E dispiace Ritorno a dire perché è un derby Però abbiamo dato quello Che i ragazzi danno sempre Come al solito E noi andiamo avanti Per il nostro percorso di crescita Di quello che è il nostro obiettivo Del campionato Ma loro hanno dei giocatori A livelli individuali importanti E veniamoci a... Non giocava bene No, no, no Ma lui era la Carrarese Quando io era la Feralpi Io non c'ero Quindi È una prima punta Con certe caratteristiche Ma hanno dei giocatori importanti Un giocatore Insomma La squadra che è stata costruita È veramente per Per altri palcoscenici Infatti Palcoscenici o quantomeno Sono lì Sono già Sono davanti Ma lo erano anche prima Sapevamo Che era difficile Ma allo stesso tempo Rivedendo la gara Il film Adesso mi viene in mente Qualche altro colpo di testa Quello di Graziano Ci sono stati veramente 4-5 palle e gol Incredibili O quantomeno due importanti Per pareggiare questa gara Sì sì Ma sono stati dei cross Senza che nessuno Insomma Noi Per tu per tu Ma non le ha avute queste occasioni L'Assemblee dei Tese Però abbiamo perso Perso 1-0 Un rigore inesistente Agli 5 minuti della fine Sotto la curva Dell'Assemblee dei Tese Non so Adesso è giusto Che ricarichiamo Le pile A livello proprio mentale Perché La squadra La squadra Insomma È demoralizzata Perché Dà tutto E non riesce a A concretizzare Quello che facciamo E quindi dispiace Perché sotto l'aspetto Dell'impegno Della negazione Di tutto Non gli posso dire nulla Anche oggi L'aspetto tattico Siamo stati lì Sapevamo che dovevamo Concedere poco a loro L'abbiamo fatto E adesso Veramente in questi momenti Vieni punito In modo abbastanza eccessivo Come è successo Col Gubbio Come è successo Oggi